La ricetta del consigliere provinciale Arnold Schuller per risparmiare un milione di euro a legislatura in indennità ai politici. La ricetta su come risparmiare un milione di euro a legislatura la fornisce Arnold Schuller, presidente del Consorzio dei Comuni e neoconsigliere provinciale, per cui si dovrebbe applicare al Consiglio regionale lo stesso principio di rotazione delle cariche previsto in giunta. Pare che Schuller, nonostante sia stato uno dei quattro ribelli che non ha votato la giunta Durwalder, troverà proprio l'appoggio delle Landesoutman nel corso della due giorni di clausura delle SVP in corso alla ION. L'idea avverte sull'inutilità, secondo Schuller, della contemporanea presenza di presidenti del Consiglio regionale e dei presidenti dei due consigli provinciali. Per il sindaco uscente di Plaus, togliendo le indennità aspettanti a queste cariche, si ottiene un risparmio di 206 mila euro all'anno, senza considerare le ulteriori spese per i tre segretari particolari. L'indennità dei presidenti dei consigli regionale e provinciali è del 50% superiore allo stipendio base, che ammonta a 14.360 euro lordi. Quelle dei vicepresidenti è del 25% superiore, quelle dei segretari questori il 12,5% in più.